La Riccione Calcio 1926 stringe un'importante collaborazione con Geda Ias Capuccio Neves, per tutti semplicemente Geda, già protagonista del calcio italiano in Serie A, nella quale ha segnato complessivamente 30 reti e anche con la maglia del Rimini dal 2006 al gennaio 2008 con il trio d'attacco composto da lui Ricchiuti e Moscardelli che fece sognare i tifosi. Geda è attualmente il secondo miglior marcatore straniero di tutti i tempi nella serie cadetta con 67 reti. Un curriculum impreziosito anche dal patentino UFAB di allenatore, ingredienti fondamentali per la Riccione Calcio 1926 che ha stretto con lui una collaborazione che lo porta a Riccione anche con un camp dedicato ai bambini e bambine dai 6 ai 16 anni in programma la prossima estate che coniuga sport e socialità. Domenica 18 febbraio l'esordio nella gara contro il Mondaino, partita persa per 2 a 0 dalla squadra di Bucci dove Geda, in un paio di occasioni, è andato anche vicino alla segnatura. Sono venuto qua anche con un progetto con Riccione Calcio di poter sviluppare un altro tipo anche di attività soprattutto improntata anche un po' molto sui giovani e poi tornare in campo mi diverto tantissimo. Poi con i ragazzi che poi ti fanno comunque star bene, sentire bene, è una società veramente molto interessante che ha un progetto molto molto bello e contribuire anche a questo secondo me fa bene. Poi sai tornare in Romagna sempre, mi sento a casa.